Sabato scorso il Vescovo Ausiliare Vicario Generale Monsignore Ernesto Vecchia ha inaugurato e benedetto una casa di accoglienza per malati di AIDS in fase avanzata della malattia. La struttura gestita dalla cooperativa Il Peti Rosso è stata realizzata in un edificio di sala bolognese messo a disposizione della Fondazione Gottardi, voluta da Dono Linto Marella per l'aiuto a persone in situazione di disagio. La casa alloggio Padre Marella è la terza del genere attiva nella nostra regione con 15 posti letto disponibili. Nonostante i farmaci abbiano reso possibile una convivenza con il virus dell'HIV, la malattia continua a causare problemi seri, soprattutto in persone con un trascorso di tossicodipendenza e di disordine psichico ed esistenziale. Casa Padre Marella di Sala Bolognese è un segno ulteriore di quella carità cristiana che è una mano tesa all'uomo che soffre.